No, stai attenti, ma quella è una cosa bellissima, sai qual è? Signore, c'è un po' di calzo, capisci? A tu un po' di calzo, partita che è sullo 0-0, siamo distrutti in un tempo, c'è anche un mare sparuta, una quindicina di positi, e del Nato che finalmente, il carrego di gioco è stato distoppato dal Caps, e si chiede, mi è scorsato, si giocava la primavera, si Ehi, Giuseppe, Peppe, quanto tempo fa a scritto quella cosa su Facebook? Delle ali, delle ali!